Il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, ha tenuto questa mattina un incontro per affrontare il tema relativo alla situazione critica in cui versa il comparto dell'edilizia in provincia. Il tavolo, il primo di una serie, nasce con l'intento di approfondire le criticità e i problemi e di discutere sui possibili scenari insieme ai referenti delle sigle sindacali CGL, CISL, UIL, i presidenti di ANCE, CNAAPI e ai presidenti degli ordini professionali, dei geometri, degli ingegneri, degli architetti della provincia di Chieti. I dati sulla crisi edilizia diffusi in questi giorni sono effettivamente allarmanti. Una crisi che parla veramente drammaticamente di 200 imprese che hanno chiuso i battenti, di 2000 dipendenti licenziati. Sono dati profondamente allarmanti che devono far riflettere. Intanto stiamo elaborando un protocollo d'intesa tra sindacati, associazioni datoriali, ANCE, enti locali per fare in modo che per esempio le imprese locali abbiano maggiore considerazione negli appalti pubblici. Anche il grido di dolore elevato dal presidente dell'ANCE nei giorni scorsi propone a tutti gli enti un atteggiamento più collaborativo nei confronti delle imprese locali. Imprese locali che danno lavoro ai nostri cittadini. Ecco intorno a queste situazioni stiamo elaborando questo protocollo d'intesa che sottoscriveremo nelle prossime riunioni ed oggi è stato un momento veramente utile di confronto. Del resto se riparte l'edilizia riparte l'economia. L'edilizia è lo specchio dell'economia in generale. Noi dobbiamo anche attivare quel metodo di lavoro tra pubblica amministrazione e privato che semplifichi notevolmente la burocrazia ma l'importante per quanto ci riguarda che le imprese locali abbiano nelle opere pubbliche una maggiore considerazione.